Non è immaginabile appunto cosa può succedere, le immagini che sono state riprese appunto danno uno spaccato di che cosa gli automobilisti o comunque i turisti hanno dovuto diciamo evitare per non provocare, non trovarsi coinvolti in un incidente pericoloso. Vere e proprie gare clandestine sulla Passo dello Spino, questo quanto scoperto dai carabinieri forestali di Arezzo. Adesso per questa folle competizione andranno a processo tre giovani. Su strade rilevate col telelaser, velocità oltre 150 km l'ora, su una strada insomma dove il limite è 50. 169 km orari. 169 km orari. Tutto è partito dalla storica campagna per la sicurezza sulle strade montane e passi a Pennini portata avanti da anni dai carabinieri forestali. Nel corso dei controlli i militari si sono così trovati di fronte a vere e proprie performanze sportive competitive. Si sfidavano lungo la strada dello Spino, fra Pieve Santo Stefano e Chiusi della Verna, in mezzo al traffico ordinario. I tre, due in sella alla moto e un altro a bordo di un'auto, tutte perfettamente truccate, in ben due occasioni si sono sfidati a vicenda come in una sorta di pericolosissima rappresentazione della nota saga cinematografica Fast and Furious. Un conto è un set cinematografico, un conto invece sono le nostre strade in mezzo ai turisti, a chi viene in montagna per godersi l'ambiente. Le indagini condotte dal PM Angela Masiello e portate avanti dai carabinieri forestali, anche grazie ad appostamenti e all'impiego di 10 telecamere e telelaser, sono riuscite a documentare ed accertare le gare clandestine. C'erano veramente dei comportamenti pericolosi, altamente pericolosi. L'auto e le moto sono state sottoposte a sequestro, i tre giovani riminesi adesso andranno a processo per gare in velocità su strada. Singoli episodi di guida pericolosa c'erano successi frequentemente, però ricostruire una vera e propria gara sulle nostre strade non era stato ancora possibile.